ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono mazzi e oggi vi parlerò di un evento che metterò in pratica diciamo una sorta di evento che metterò in pratica sul mio canale youtube per tutti i possessori di playstation 3 xbox one e playstation 4 ragazzi allora andiamo a vedere cosa andrò a fare nel mio canale youtube andrò a estrarre una volta a settimana un account moddato completamente moddato per le tre console che vi ho appena detto moddato intendo con soldi un lock hole insomma parecchie cosine sbloccate un bell'account diciamo con un bel rango annessi e connessi insomma ragazzi allora per partecipare a questo diciamo evento questa sorta di concorso che cosa bisogna fare ragazzi è semplice potete vincere tutti senza nessun problema e l'unica cosa che dovete fare è essere attivi sul canale durante la settimana in pratica io la domenica successiva andrò a estrarre questo account e andrò ad assegnare l'account a chi sarà più presente sul canale che sarà presente nei commenti ragazzi io faccio pochi video a settimana quindi non è che ci vuole molto stamme dietro comunque che sarà più presente nei commenti sul mio canale che condividerà i miei video in maniera tale da da farli conoscere no ragazzi io ho aiutato tanto nei glitch anche nel mio vecchio canale ora aiutate voi a crescere un pochino non è che vi sto chiedendo molto e poi insomma anche se sto chiedendo qualcosa vi do qualcosa in cambio comunque dicevo i requisiti sono essere presenti sul canale iscriversi al canale e condividere i miei video su facebook sul vostro canale youtube insomma condividere i miei video allora io mi renderò conto giustamente se voi avete condiviso i video dal fatto che voi abbiate il profilo pubblico perché se non avete il profilo pubblico io non posso capire se voi avete condiviso i miei video o meno quindi dal momento che vi iscrivete condividere i miei video mettete il profilo pubblico in maniera tale che io possa vedere chi condivide il mio video e chi non condivide insomma no nulla mi sembra abbastanza semplice come cosa da realizzare quindi non è nulla di difficile iscriversi condividere e commentare basta niente di più insomma è un modo per essere più presenti sul mio canale non vi chiedo like non vi chiedo un cazzo raga è una cosa semplicissima poi voglio dire chiedetemi anche amicizia su facebook perché faccio anche video di altri giochi ultimamente sto allargando un po le le prospettive su facebook metto parecchi post riguardanti i giochi delle prossime uscite e cazzi vari insomma ragazzi se mi seguite diciamo verrete anche premiati no verrete premiati con questo premio settimanale io ogni settimana come vi ho già detto metterò in palio un account quindi fate girare questo video condividetelo iscrivetevi al canale e avrete la possibilità di vincere questo account per questo video è tutto un saluto da maxi al prossimo video